Mi chiamo Simone Scarella, ho 41 anni, sono maestro e guida ciclosportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Per me la mountain bike è libertà, fare sport all'aria aperta e condividere la natura e lo sport. Ecco Simone, siamo arrivati tra queste splendide pre-alpi. Che cosa ci aspetta qui? Qui ci aspetta un splendido single track in cresta dove dovremo prestare attenzione, dove mettere le ruote, pedalare un po' più agile e una pedalata sicura. Non sempre si riesce a pedalare in salità, a volte bisogna spingere. Consiglierei a un ragazzo che vuole entrare nel mondo della mountain bike di iniziare con una bicicletta, diciamo una front, quindi non una biammortizzata, anche perché così spende molti meno soldi e provare a fare dei percorsi molto semplici alla portata di tutti. Se poi la passione va avanti e si vuole passare addirittura all'agonismo, allora casomai si fa altri investimenti più avanti. Però direi di iniziare con una bici base, una front che va benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.